è in arrivo un treno carico di film meravigliosi è una storia incredibile per un natale davvero magico su sky cinema titoli da sogno tutti in prima tv no è un piacere c'è un malinteso questo è proprio un passo da favola e per la prima volta nella galassia tutta la saga di star wars in hd niente è possibile e se colleghi il tuo my sky a internet hai oltre 900 film sempre disponibili da vedere quando vuoi sul nuovo sky on demand lo spettacolo più straordinario della mia vita buone feste da sky cinema grazie